Il gol di Francesco è un gol che fa un campione di 15 secondi, ci ha messo 20 secondi, è andato là, è passato tra tutti i difensori del Torino, sono delle berbe, si andava a metterla sul secondo palo, le reazioni, la chiusa, e quelle scelte lì le fanno chi ha qualcosa di telecomandato, perché è una bella, è soltanto lui che le sa fare. Io speravo andasse là perché c'era a battere una punizione, ho detto, poi però quando è entrato lui, questa partecipazione che l'ha fatto subito, ho detto a questo punto, la partita vinciamo perché lo stadio ha subito, questo entusiasmo subito, la squadra è la vicenda, l'ho messo un po' tardi perché avevo due o tre situazioni mezze in mese, però fino a che non si è preso il 2-1 la squadra aveva reagito bene, aveva fatto delle cose, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita.